Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo brevissimo video Sono qui per dirvi giusto una cosa abbastanza importante Che riguarda Farming Simulator 17 Praticamente è uscito da pochissimo Sul canale youtube ufficiale di Farming Simulator Un video che riguarda Una specie di trailer su Farming Simulator 17 Allora ve la faccio un attimo Un attimo esaminarla con voi Brevemente, naturalmente il video dura un minuto Poi vi lascio in descrizione sia il link del canale Di Farming Simulator che vi consiglio di iscrivervi E poi anche il link del video così ve lo vedete meglio Allora il video come vedete riguarda Farming Simulator 17 Ma è molto realistico Quindi sicuramente non sarà così Ci saranno naturalmente molte novità E i trattori che sono presenti in questo video E anche i mezzi che sono presenti in questo video Sicuramente ci saranno anche nel gioco Perché ci sono nuovi mezzi Come vedete adesso nel video Si vedono vari spezzettoni Dove si ara, si erpica, si semina E niente Poi ci vedete c'è il fanlet Ci sono mezzi che sicuramente Su Farming Simulator 17 ci saranno Però la grafica è troppo realistica Secondo me loro Per attirare magari un po' la gente Hanno fatto tipo nel 2015 Quando avevano fatto il video con la Ponce Che era tutto un'altra cosa Rispetto al vero Farming Simulator 2015 Avevano fatto tipo un video con la Ponce Che era veramente realistico E niente quindi questo video Per niente fa vedere un po' di spezzettoni Su come sarà Farming Simulator 17 Se sarà così Ottimo Ma io non penso proprio Sono video ritoccati Non so neanche se l'hanno fatti Sulla agricoltura reale E dopo magari l'hanno ritoccati Con qualche programma Ma non sarà sicuramente così Magari ecco i particolari De texture Miglioramenti ci saranno di sicuro Come vedete anche De texture di quando si ara Sicuramente ci saranno Vari cambiamenti E speriamo pure Però secondo me Sono video veramente molto realistici Vedete qui c'è il Massey che semina C'è il Lamborghini che falcia Io spero ci siano parecchi miglioramenti Ora il video è un modo anche Diciamo per attirare le persone E niente dai Il video è corto come vedete Ora vi sto un attimo facendo vedere Vedete c'è il Fanlet qui Che era Il Fanlet 939 Vedete Eccolo qui Poi c'è il Challenger Il Cut Challenger Vedete Che mostro E vabbè comunque Spero ci siano parecchie novità Ma il video è troppo realistico Per far credere Che sia appunto un gioco Che poi nel 2015 Era tutta un'altra cosa Quindi Se è così C'è proprio un miglioramento Compressivo C'è un miglioramento Diciamo Un grande miglioramento Sono video Secondo me Che riguardano più L'agricoltura reale Che il gioco Ma comunque Magari vogliono far vedere un po' Come sarà Farmi In Simulator 17 Di mezzi E magari È tutto un po' Fatto per attirare Poi non so Se voi volete dirmi qualcosa Scrivetemelo nei commenti A me Io la penso così Perché Ormai C'è anche nel 2015 Era così Facevano video del genere E dopo Era un'altra cosa Del gioco Quindi Non ci crederei Più di tanto Però comunque È già un video Magari che ti fa vedere I nuovi mezzi Che ci saranno E quello già è tanto Diciamo E niente Dai dopo Qui vedete Che falcia Ehm Diciamo Il Lamborghini Vedete Fendet Massi che semina E Voi Vari mostri Che lavorano Qui in campo Che sicuramente Sono mezzi Che ci saranno Che verranno aggiunti Sono mezzi anche belli Diciamo Però dopo Come video Lo trovo Troppo realistico Quindi Anche un po' Falso Lo trovo Però intanto È un trailer Per Invoiare Anche le persone Di comprare Di per ordinare Il gioco Vedete nei commenti Ci sono Molti complimenti Sicuramente Si merita Il video Se è così Il gioco Merita molto Ma È un po' Diciamo Esagerato Il video Niente Io adesso Era giusto Per avvisarvi Poi in descrizione Vi lascio Come già vi ho detto Il link del video Il link del canale Di farming simulator Così ve lo vedete Per voi E niente Dai Per questo video È tutto Direi Io la penso Così ragazzi Mezzi ci saranno Sicuramente Ci saranno Miglioramenti Anche sulle texture Ma come grafica Questa è proprio Non so bene Se sia realtà Oppure magari Che so Gioco Ma ritoccato Ma comunque Io penso Che abbiano fatto Hanno fatto Praticamente Un po' Una verità Tra il gioco E la realtà Diciamo Comunque Ecco il video È questo Poi lo sapranno Loro Si vedrà in futuro Sicuramente Usciranno altre notizie Ci saranno immagini A breve Durante anche l'estate Eccetera eccetera E vabbè dai Io vi consiglio Di iscrivervi Anche al mio canale E vabbè Noi ci rivediamo Nel prossimo video E ciao a tutti Alla prossima Ragazzi Ciao ciao